Direttore, con lei non entriamo nel merito delle scelte tecniche perché ovviamente aspetta ad altri, ma cosa può fare il Teramo in questo mercato di gennaio? Quali risorse ci sono effettivamente per operare? Io comunque sono tifoso del Teramo, quindi le scelte tecniche mi piacciono. Per quanto riguarda il campionato, ripeto, il gennaio è pur sempre un altro campionato, noi siamo consapevoli e conscii di questo fatto, quindi dicevo prima a qualche altro suo collega che abbiamo un'idea molto chiara, ma chiaramente per entrare qualche giocatore deve andare via necessariamente qualcun altro. Però siamo consapevoli di questo fatto, abbiamo fatto già delle scelte, adesso non ne possiamo parlare perché stiamo in questi giorni facendo le riunioni e quindi quando abbiamo la certezza, la contezza, soprattutto economica, di qualche situazione lo faremo. Un giudizio finora del campionato giocato dal Teramo, comunque è soddisfacente? Sì, è soddisfacente perché mi pare di ricordare che su 21 partite l'anno scorso i punti sono 19, adesso le partite sono 18 e i punti sono 21, quindi diciamo abbiamo migliorato questo range per quanto riguarda i punti. Sono molto soddisfatto dello staff, della squadra, è chiaro che tenendo presente che a oggi il campionato inizia tutt'altra cosa e quindi è chiaro che qualcosa dobbiamo promettere. Vi spaventa che chi sta alle spalle sta provando a rinforzarsi, tipo il Sant'Arcangelo che cerca ad esempio i giocatori di Serie B? A gennaio chi si rinforza di più significa sbagliato tanto a luglio, io credo che tutto sommato noi siamo contenti del gruppo. È chiaro che a volte si fanno delle cose per far cambiare aria a qualcuno, sia per quanto ci riguarda sia per quanto riguarda altre società. Però ripeto, noi siamo contenti, soddisfatti, tra qualche giorno faremo qualcosina e poi vi diremo. Grazie a tutti.